Candelora, luce che non si spegne, la celebrazione in cattedrale con le comunità religiose unite ai fedeli nella preghiera guidata dal Vescovo. E poi il box sotto, la vita, capolavoro di Dio in occasione della giornata mondiale per la vita che si celebra domani, si è svolta venerdì sera nella chiesa parrocchiale di Miglia Rinna, la veglia di preghiera, organizzata dall'ufficio diocesano di pastorale della famiglia. A concluderla il Vescovo trovate un estratto delle sue parole. Invece sabato prossimo sarà la giornata del malatto, trovate in questo caso tutti gli appuntamenti previsti con il Vescovo. A centropagina un libro su Don Carlo, Don Carlo un prete, un uomo. A distanza di un anno dalla scomparsa di Don Carlo Ricciardi è stato presentato a Sarzana un libro che ne ricorda la figura di sacerdote e di uomo. A fianco il bilancio dell'anno trascorso per la biblioteca diocesana Niccolò V, nonostante le difficoltà, un bilancio positivo. A fondopagina Guido Barbagli è stato confermato presidente degli artisti cattolici della sezione della Spezia. E a fianco sulle orme degli alpinisti Ballard e Nardi, un'iniziativa culturale del Cinema Italia di Sarzana, prevista per martedì sera. E poi l'articolo di spalla è una riflessione, così da utopia la speranza diviene realtà. Una riflessione appunto sui 237 migranti della nave di Medici Senza Frontiere che sono sbarcati la scorsa settimana alla Spezia. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.